Un'equipo che ha ganato oggi e anche lo personale che si ha parlato e si ha esperato tanto il dia di oggi, che uno jugò e trattare di farlo bene, a uno lo pone contento. Come giudichi la tua prestazione? Sei contento di come hai giocato oggi? Ho giocato bene perché abbiamo raggiunto i tre punti. In personale, come ti ho detto, sei anche contento e continuare a lavorare, a continuare per questo cammino e sperare l'opportunità di nuovo. Cosa ti aspetti dalla tua avventura qui in Italia, al Torino? Sei un terzino offensivo, un terzino che ama andare sul fondo, mettere palloni o ti senti più bravo nella fase difensiva in carriera? Trato di adaptarmi a lo che mi ha detto il mister, se il mister mi ha detto che sia un po' defensivo lo so e anche mi piace andare al attaccio, quindi depende del rival, depende del equipo che facciamo e trattare di fare prima lo che mi ha detto il mistero. Ho parlato molto quando ho arrivato a casa, però a base di lavoro e di essere constanti, di entrenarsi e non parlare tanto, ma lavorare. Credo che uno dimostra lo che sa fare, e spera un momento, anche Maciel lo fa di buona maniera, quindi uno sta tranquillo a la ora che gli tocca, a trattare di rispondere al mistero. Era un po' raro, a lo ultimo si complicò un po' però lo supimos manejar, e credo che abbiamo fatto dentro di tutto un buon partito. Grazie. Grazie a tutti.